Le sette principali economie del pianeta si impegnano ad abbandonare l'uso di carbon fossile nella produzione energetica entro il 2035, ma anche a promuovere strategie circolari per garantire l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di minerali critici, per ridurre l'impronta di settori a grande impatto ambientale come quello tessile e per contrastare l'inquinamento da plastica. Il G7 a guida italiana si chiude con un accordo tecnico e politico che ha nell'addio al peggiore tra i combustibili il più ambizioso dei suoi 45 punti, ma che riesce anche ad affermare, come era nelle intenzioni dei negoziatori italiani, la centralità dei modelli di economia circolare nella roadmap per fronteggiare la tripla crisi globale del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento. Un'operazione che è un'operazione ponte tra COP28 e COP29, possiamo dire, naturalmente con il G20 di affiancamento. Questo a manifestare quella che può essere la leadership dei paesi più industrializzati come soggetti che devono cogliere quello che è il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l'inquinamento come un motivo di revisione di quelli che erano i propri percorsi. Il comunicato finale siglato al termine della due giorni di Torino parte dalla presa d'atto dell'insufficienza delle iniziative messe in campo, come emerso già alla COP28 di Dubai, motivo per cui i paesi del G7 si impegnano tra l'altro a definire nuovi piani nazionali per la riduzione delle emissioni allineati all'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi, anche raggiungendo il phase-out dell'utilizzo energetico del carbone negli impianti esistenti durante la prima metà del 2030 o in linea temporale coerente con il mantenimento del limite di 1,5 gradi. Se al capitolo sull'energia il comunicato prosegue con impegni sulla riduzione delle emissioni di metano, sulla finanza climatica e sul supporto ai paesi in via di sviluppo, al capitolo sull'ambiente l'intesa mette invece al centro l'economia circolare, fondamentale per ridurre la pressione sulle risorse primarie e svolgere un ruolo chiave nel mitigare gli impatti negativi dell'estrazione e della lavorazione delle risorse, ma al tempo stesso anche capace di aumentare la resilienza delle nostre economie ai potenziali shock futuri. Per questo i paesi del G7 puntano a una transizione rapida verso modelli economici circolari, si legge, partendo da settori chiave come quello dei minerali critici e del tessile, in quest'ultimo caso coinvolgendo governi, imprese, stakeholder e partner a dare vita entro la fine del 2024 a un'agenda volontaria comune sul tessile e la moda circolare. In generale si legge i sottoscrittori dell'intesa si impegnano a migliorare la progettazione dei prodotti, promuovere regimi di responsabilità estesa del produttore, sostenere modelli di business circolari, definire quadri per il ciclo di vita sostenibile dei prodotti e contrastare il greenwashing. Un impegno, quello per la promozione di modelli economici circolari che le principali economie del pianeta estenderanno anche al tema dell'inquinamento da plastica, incluso quello marino, rispetto al quale entro il 2024 i paesi del G7 lavoreranno per contribuire a chiudere i negoziati ONU su un trattato globale.